Le buone regole a tavola. Per prima cosa schiena dritta e non appoggiare mai i gomiti sul tavolo. Il tovagliolo ha solo un'unica posizione chiaramente sulle gambe. Il telefono prima di tutto lo metti in silenzioso e poi non lo appoggi sul tavolo ma lo metti nel taschino. E se ti arriva una telefonata urgente e devi rispondere chiedi scusa ti alzi e vai fuori a rispondere. Importantissimo non giocherellare mai con le posate e se poi per l'utilizzo non sai riconoscere parti sempre da quelle esterne per prima. Pretty woman docet. Per il brindisi non battere mai sull'altro bicchiere, incroci lo sguardo e alzi il calice. Non avventarti subito su pane e grissini però se vedi che lo fanno gli altri fanno anche tu. Lo spezzi dentro il piatto e poi lo porti in bocca. Non fare mai bocconi esagerati ma fai bocconi piccoli. Se non puoi farne a meno perché hai qualcosa in mezzo ai denti chiedi uno stuzzicadenti ma ti alzi e vai in bagno.